La storia delle pesche di Prato. Voi avete reinventato un dolce che mi diceva si fa un po' in tutto il mondo. Noi questo dolce lo facciamo da sempre, però come lo facciamo noi lo fanno anche da altre parti, perché la globalizzazione non è stata inventata ora. Le cose buone sono sempre circolate. Quando uno assaggia qualcosa di buono tende a portarlo ai propri cari. E quindi è normale che le cose buone viaggino, non solo ora virtuali su internet, ma davvero a livello di gusto. Quindi cosa succede? Questa cosa si pensa che sia stata creata a Prato per un discorso di vicinanza con Firenze, dove si fa l'Archemes. È nato a Firenze l'Archemes, che veniva usato per colorare i tessuti anche, il discorso del prodotto con cui si fa l'Archemes. Ma la ricerca storia che abbiamo fatto ci porta che nel 1861, e sono documentati per festeggiare un'unità d'Italia, un'oste nelle vicinanze di Piazza del Duomo ha servito la pesca. Ecco perché tutto riporta al discorso che le pesche sono di Prato. Grazie a tutti.